A vento tempo della speranza, la riflessione del vescovo Alberto Tanasini accompagnerà il cammino verso il Natale. La speranza è concreta e la preghiera in famiglia ne è testimonianza. Non cediamo al sonno della mediocrità e dell'indifferenza. Nella prima domenica di avvento il pontefice nella messa celebrata insieme ai nuovi cardinali invita la preghiera e a servire il prossimo. Dall'accoglienza all'integrazione e le esperienze di ospitalità ai migranti sul nostro territorio e le nuove difficoltà create dalla pandemia. Stasera su Telepace nella rubrica direttamente su. Prende il via domani l'edizione digitale del Salone dello Studente del Tigulio, istituti online sino al 15 giugno 2021. Dopo la visita virtuale i genitori potranno prendere appuntamento con la scuola. La Casarza Ligure prosegue la messa in sicurezza della strada per Bargone. In fase di realizzazione il muro in cemento armato. Il comune chiede di rientrare nei territori dove è stato dichiarato lo stato di calamità. Virtus Entella in cerca disperata di punti nel posticipo del nuovo turno del campionato di Serie B a Chiavari. Arriva alla spalla. Esordio in campionato per il nuovo mister Vincenzo Vivarini. Buonasera, buonasera a tutti gentili telespettatori. Benvenuti nei nostri studi. È iniziato il tempo d'avvento, periodo di preparazione al Santo Natale. Un tempo forte nella vita della Chiesa che quest'anno si colloca nel mezzo di una pandemia che sta mettendo in sofferenza tutto il mondo. Il nostro Vescovo Monsignor Tanasini ci accompagnerà in questa settimana con una riflessione che prenderà spunto dal tema L'Avvento, Tempo della Speranza. Vediamo. Eccellenza, in questo tempo di prova che stiamo vivendo qual è il messaggio di speranza che l'Avvento ci invita a vivere? L'Avvento è il tempo dell'incontro, se vogliamo, dell'attesa perché sappiamo che Lui viene. A me sta a cuore sottolineare come proprio per il tempo che è il tempo di attesa di colui che viene, che è venuto e che viene, allora possiamo parlare di una speranza fondata perché quello che importa è che la speranza non sia vuota ma sia vera, abbia un fondamento. E l'Avvento del Signore ci dice che possiamo arrivare a un porto e questo porto ce l'ha preparato Lui e allora vale la spesa camminare. Non siamo su una zattera sbattuta dal vento che non sai dove va, non sai se resisterà ai marosi. Tra le tante cose che questo tempo di pandemia ci ha fatto riscoprire il tempo dedicato alla preghiera. C'è un invito particolare che lei formula ai diocesani anche proprio in questo tempo di avvento? Il tempo dell'isolamento si è rivelato il tempo del desiderio dell'incontro, dell'essere vicini, dello stringerci. L'abbiamo vissuto. Ricordate il rosario detto insieme? Ma nello stesso tempo non è stato soltanto quello il modo. Mi risulta che molte famiglie hanno trovato il modo di raccogliersi insieme anche per pregare e che le bambine ne erano entusiasti. E credo che sia legato anche al fatto che pregare insieme ci dà la certezza che nell'amore di Dio il nostro amore si rafforza. E allora ecco il mio invito a vivere questa esperienza anche adesso. Andiamo verso Natale insieme. Ritroviamo nelle nostre famiglie la gioia della preghiera. Tre nuovi diaconi per la diocesi di Chiavari sono Simone Garibaldi, Tommaso Mazza e Giovanni Vaccaro. Saranno ordinati dal vescovo Monsignor Tanasini nella solennità dell'immacolata concezione di Maria Santissima martedì 8 dicembre alle ore 15. La celebrazione si svolgerà nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari e per garantire il pieno rispetto delle norme anticontagio. L'ingresso non sarà libero ma potranno essere presenti soltanto le persone che riceveranno un pass dagli ordinandi. Telepace trasmetterà comunque in diretta la Santa Messa per rendere possibili a tutti la partecipazione. Il Pontefice ha celebrato la Santa Messa con i nuovi cardinali nella Basilica Vaticana nella prima domenica di Avvento. Prendendo spunto dalle letture, Francesco ha parlato della vicinanza del Signore, ha invitato alla vigilanza attraverso la preghiera e le opere di carità. Quando la Chiesa adora Dio e serve il prossimo non vive nella notte, così ha spiegato il Pontefice. Sentiamo. Vicinanza e vigilanza sono le due parole chiave per il tempo di Avvento. Ci vengono suggerite dalle letture tratte dal libro del profeta Isaia e dal Vangelo di Marco. Ma come vigilare? L'Avvento è il tempo in cui fare memoria della vicinanza di Dio che è sceso verso di noi, gli afferma il Papa. Ma il profeta Isaia ci suggerisce di chiedere a Dio di avvicinarsi ancora di più, invocando, se tu squarciassi i cieli e scendessi. Il primo passo della fede osserva il Papa e dira al Signore che abbiamo bisogno di lui, della sua vicinanza. Egli vuole venire vicino a noi, ma si propone, non si pone. Sta a noi, non stancarci di dirgli vieni, sta a noi. È la preghiera dell'Avento, vieni. Gesù ci ricorda l'Avento, è venuto tra noi e farà di nuovo alla fine dei tempi. Ma ci chiediamo, a che cosa servono queste venute se non viene oggi nella nostra vita? Il Papa avverte, la fede non è acqua che spegne, è fuoco che brucia. Gesù non sopporta la tipidezza. Si vede il disprezzo di Dio per i tiepidi, afferma ancora. È dunque necessario scuotersi da questo sonno e lo possiamo fare vigilando nella preghiera, perché pregare è accendere una luce nella notte, è sintonizzarsi con il Signore. La preghiera permette a Dio di starci vicino, però libera dalla solitudine e da speranza. La preghiera ossigena la vita. Come non si può vivere senza respirare, così non si può essere cristiani senza pregare. Ma c'è un altro pericolo. Accanto al sonno della tiepidezza c'è quello dell'indifferenza. È il sonno di chi non si interessa agli altri, ma è centrato solo su se stesso. Quando orbitiamo solo attorno a noi stessi e ai nostri bisogni, indifferenti a quelli degli altri, la notte scende nel cuore. Il cuore diventa oscuro. Sono le opere di carità la strada per andare incontro a Gesù. Quando la Chiesa adora Dio e serve il prossimo, non vive nella notte. Dice ancora Francesco e conclude, vieni Signore Gesù, facci sentire il desiderio di pregare, il bisogno di amare. Per un cristiano la cosa più importante è l'incontro continuo con il Signore. Gesù bussa ogni giorno alla porta del nostro cuore. Lo ha sottolineato il pontefice all'angelus esortando a sentire nel cuore quando il Signore bussa. Francesco ha ricordato che la liturgia ci invita a vivere il primo tempo forte dell'anno liturgico, l'avvento che prepara il Natale come tempo di attesa e di speranza. Sentiamo le sue parole. Nostro Dio è un Dio che viene, non dimenticatevi questo. Dio è un Dio che viene, continuamente vieni. Egli non delude la nostra attesa, mai delude il Signore. Ci farà aspettare forse, ci farà passare qualche momento nel buio per maturare la speranza nostra, ma mai delude. La festività del Natale commemora questa prima venuta di Gesù nel momento storico e verrà alla fine dei tempi come giudice universale. E anche viene una terza volta, una terza modalità. viene ogni giorno a visitare il suo popolo, a visitare ogni uomo e donna che lo accoglie nella parola, nei sacramenti, nei fratelli, nelle sorelle. Immigrazione, accoglienza, integrazione sono i temi al centro della puntata di questa sera della nostra rubrica Direttamente Su. Si parlerà di come funzionano le esperienze di ospitalità sul nostro territorio, quali sono le difficoltà maggiori per le persone arrivate in Italia e delle nuove sfide che ha portato la pandemia. Ne vediamo un'anticipazione nel servizio che segue. Sicuramente le difficoltà da emergenza sanitaria e dalla gestione del contagio Covid sono importanti all'interno di queste strutture. Diciamo che abbiamo meno difficoltà laddove le strutture sono piccole, quindi laddove dobbiamo gestire un piccolo appartamento, dove il nucleo familiare è ristretto, comunque è famiglia, quindi parliamo di una mamma, un papà, i propri figli. Lì c'è un'attenzione diversa e forse una gestione più semplice. Qui è molto difficile parlare, pensare che con la mascherina ci si può proteggere da un virus. Parliamo di persone che vengono da storie e paesi dove tutti i giorni si muore senza sapere un perché. Quindi certamente quello che riusciamo a trovare come appiglio è che in ognuna delle comunità abbiamo sicuramente delle persone che ci seguono e sono forse anche un po' più grandi, un po' più adulti rispetto ai ragazzi più giovani, che ci aiutano a mediare e che quindi fanno da esempio per gli altri. Ma per quello che hai potuto percepire in questi anni, che storie hanno portato qui nel nostro tessuto sociale? Allora, quello che ci ha toccato di più sono sicuramente le storie di violenza che ci sono dietro, non solo da parte di ragazze, di ospiti di genere femminili, ma anche dei ragazzi che sono giovanissimi perché veramente arrivano dei ragazzi veramente giovani. Parliamo anche di minori di 18 anni con delle storie di violenza familiare veramente, veramente importanti. Parliamo di giovani venduti allo zio, venduti per pochi soldi oppure costretti a fare dei lavori veramente duri e tutti con un unico sogno, quella barca. Ci raccontano tutti il sogno di questo viaggio come una scommessa per la vita e questo ci ha toccato a tutti profondamente. Sul nostro territorio com'è stata l'accoglienza che hanno ricevuto? All'inizio e ancora adesso per alcune persone, soprattutto le più chiuse, le più timide, è ancora molto difficile fidarsi e affidarsi all'altro. La vera scommessa è proprio questa, poi forse questo anche all'interno delle nostre comunità. Per loro lo è un po' di più. I momenti più duri sono sicuramente quelli sul lavoro e quindi quelli sull'inserimento lavorativo. Lì non ci si può permettere errori. La puntata direttamente su dall'accoglienza all'integrazione, le nuove rotte, le sfide della pandemia, i progetti che accompagnano all'autonomia, sarà trasmessa questa sera a 21.10 su Telepace 1 al canale 15 del vostro telecomando. Non perdetela. E ora facciamo un passo indietro. Al termine della celebrazione del concistore ordinario pubblico che sabato pomeriggio si è svolto nella Basilica di San Pietro in Vaticano, il Santo Padre e gli undici nuovi cardinali presenti a Roma si sono recati in visita al Papa Emerito, Benedetto XVI, nella cappella del monastero Mater Ecclesie. In un clima di affetto, riporta la nota della Sala Stampa Vaticana, i cardinali sono stati presentati individualmente al Papa Emerito, che ha espresso la propria gioia per la visita e dopo il canto del Salve Regina ha impartito loro la benedizione. La visita si è conclusa poco dopo le 17.00. Verrà celebrato domani mattina il funerale di Monsignor Paolo Rigonno, 82 anni, preside del capitolo di San Lorenzo e vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico. Gli esegui si svolgeranno nella cattedrale di San Lorenzo a lette 30. Saranno presedute dal cardinale Angelo Bagnasco e concelebrata da Monsignor Marco Tasca e Monsignor Nicolo Anselmi. La cara salma verrà poi tumulata nel cimitero di Staglieno. I funerali saranno trasmessi in diretta su Telepace 3 al canale 115. Ora l'andamento del contagio in Liguria. Oggi i dati sono più bassi, come sempre accade il giorno di lunedì. I nuovi contagi sono 246 a fronte di soli 2.101 tamponi. Il totale dei positivi scende di 395 unità. Torno ad aumentare il numero dei ricoveri, oggi più 29. In tutto ci sono 1.110 ospedalizzati, di cui 113 terapie intensive. I guariti sono 633, i morti sono 7. Tra questi una 78enne deceduta all'ospedale di Sessi Levante il 16 novembre scorso. Nel nosocomio sesterese si registrano 6 ricoveri in più. A Lavagna uno in meno. Il totale è 109 posti letto Covid occupati nella Bimare, di cui 7 in terapia intensiva e uno in quello di Lavagna. In sorveglianza attiva ci sono 834 persone. Ora passiamo alla cronaca. Due denunce per guida in stato di ebrezza nel fine settimana da parte dei carabinieri di Sessi Levante. Durante i normali servizi di controllo del territorio hanno sottoposto al test alcolemico un 43enne di Lavagna e un 34enne di Cogorno. Risultati rispettivamente con un tasso di 1,01 e 1,62 grammi per litro. Il mezzo dell'uomo di 34 anni è stato anche sequestrato. Prende il via domani, primo dicembre, l'edizione virtuale del Salone dello Studente del Tiguglio. I ragazzi di Terza Media potranno conoscere l'offerta delle scuole del territorio per un periodo più lungo e prendere appuntamento con gli istituti interessati. Un'edizione dunque in sicurezza. Sentiamo. Online è per un periodo di tempo più lungo. Sono le due novità dell'edizione 2020 del Salone dello Studente del Tiguglio. La pandemia, insomma, non impedirà agli studenti di Terza Media di curiosare tra i licei e gli enti professionali del territorio per decidere quale percorso di studi intraprendere. Il Salone si terrà dunque dal 1 dicembre al 15 giugno 2021 su internet. Basterà visitare il sito del Comune di Chiavari. Su una pagina dedicata ci sarà l'elenco delle scuole e un link per ciascun istituto. Cliccando il link si entra direttamente nella scuola, o meglio, nello spazio che ciascuna scuola ha preparato per gli studenti che vogliono capire com'è fatta con la scuola. Quindi ci saranno dei video, ci saranno delle fotografie, delle materie elencate. La cosa interessante è che all'interno di questo spazio ci sarà la possibilità di prendere un appuntamento con i professori della scuola. Le scuole coinvolte sono i Liceti e il Davigo di Rapallo, l'Artistico Luzzati, il Caboto, l'Istituto in Memoria dei Morti per la Patria, il Marconi del Pino, l'Enteforma e il Giannelli Campus di Chiavari, l'Accademia del Turismo di Lavagna, il Natta di Ambrosis di Sesti Levante, il Marco Polo di Camogli e il Marsano di San Colombano Certenoli. Sempre sul portale del Comune di Chiavari sarà anche possibile collegarsi al Salone Orientamenti di Genova per visionare l'offerta di altre scuole Liguri e per i percorsi universitari. Chiedo ai genitori che facciano particolare attenzione ai corsi di formazione, di formazione professionale, perché in questo momento se c'è una strada che aiuta i ragazzi a trovare lavoro rapidamente, è proprio quella, perché le aziende chiedono proprio formazione professionale specializzata, senza raccontare che chi fa l'Istituto professionale può continuare, perché esistono gli ITS, gli istituti tecnici superiori. Chiavari punta a sistemare la spiaggetta del porto. La Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che prevede nuovo verde, manutenzione dei percorsi e delle luci, eliminazione delle barriere architettoniche, sistemazione di spazi e attrezzature, panchine, servizi igienici pubblici e tre nuove attrazioni per i bambini. La spesa complessiva è di 250 mila euro, in particolare saranno rimosse le due scale in metallo e saranno costruite due strutture a semicerchio, idonee ad essere usate anche come gradinate. Sarà anche realizzata una rampa d'accesso per i disabili. L'area, con questa nuova impostazione, sarà così fruibile da parte di bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni. Il Comune però adesso deve trovare i fondi necessari per realizzare questo importante intervento. Proseguono a Casarza Ligore i lavori per mettere in sicurezza la strada che conduce alla frazione di Bargone. La frana, che si era staccata dal versante in occasione dell'ondata di maltempo dei primi giorni di ottobre, è stata rimossa e si sta procedendo quindi alla costruzione di un muro in cemento armato. Sotto osservazione è anche l'acquedotto che serve la località della Val Petronio. Vediamo. Sta prendendo forma l'imponente muraglione che andrà a mettere in sicurezza definitivamente uno dei versanti più a rischio della strada che porta alla frazione di Bargone a Casarza Ligure. Con una spesa di 300 mila euro, il Comune, che nel contempo ha rinnovato la richiesta che il territorio della Val Petronio venga inserito nello stato di calamità e vengano riconosciute le somme urgenze, mette mano ad un punto critico già a partire dalla fine del 2019 e collassato nei primi giorni di ottobre. Oltre al muro di pali in cemento armato si è intervenuti anche a monte con la regimazione delle acque lungo il sentiero che dal fondo valle conduce alla frazione. Ma non sono gli unici interventi. Stiamo anche fermando una frana successiva a questa che sarà qui a 20 metri con una palificazione e subito dopo interveremo a costa di Bargone per bloccare una grossa frana di versante che sta venendo giù come ha isolato l'anno scorso la frazione di costa di Bargone e inserverremo anche sulla strada del Bocco. Una volta completato l'intervento verrà garantito l'accesso in sicurezza alla frazione di Bargone resta alta. Invece la preoccupazione per le condizioni dell'acquedotto che serve gli abitanti della località. Sempre al maltempo di ottobre aveva provocato alcune frane che hanno danneggiato le condutture altre ne minacciano la tenuta. C'è una frana che sta comunque attaccando la nostra sorgente la strada che porta a questa sorgente sta collassando abbiamo fatto già una richiesta in regione, abbiamo segnalato tutto in regione e anche qui stiamo studiando i sistemi per intervenire e noi come consorzio comunque abbiamo fatto una richiesta al comune per prendere un 300 metri di tubo perché se per caso dovesse crollare il versante il paese rimane senza acqua e abbiamo questi 300 metri di tubo da poter fare un bypass. A Sessi Levante due interpellanze sono state presentate dai consiglieri di minoranza Armanino Esmeraldi della Lega. Nella prima si chiedono lumi sull'attraversamento ciclopedonale in via Traversa di via Aurelia all'angolo con via Primi dove in caso di pioggia si forma una grande pozzangara che rende difficoltoso il passaggio, specialmente per gli anziani e per chi ha problemi motori. La seconda interpellanza riguarda il degrado del muro di sponda del rio Battana adiacente alla pista ciclabile di via Primi. Il gruppo consigliare di minoranza 100% Lavagna ha presentato una mozione contro l'inizio dei lavori della cosiddetta diga per figli. In particolare i consiglieri Maggi e Corsi chiedono al sindaco Mangiante azioni mirate alla revoca degli atti amministrativi decisi da precedenti amministrazioni e che ammettono l'edificazione dell'opera. Inoltre auspicano l'attivazione della stesura di un PUC semplificato che preveda l'intento di mantenere la vocazione agricola della piana del fiume Entella. Passiamo allo sport, posticipo del nono turno del campionato di Serie B. Questa sera al comunale di Chiaveri alle ore 21 andrà in scena Entella-Spall. Un match fondamentale per le sorti della stagione. Toccherà al signor Manuel Volpi di Città della Pieve e dirigere il match per la sfida con i biancazzurri sulla panchina bianco-celessa. Ci sarà l'esordio in campionato del nuovo mister Vincenzo Vivarini. I presupposti per una sfida spettacolare ci sono tutti. Sentiamo le sue parole. Mister, qualche giorno di allenamento in più le chiedo a che punto è questo percorso di reciproca conoscenza tra lei e la squadra. La conoscenza è buona perché comunque sono tutti i giocatori che già conoscevo. Poi le partite le ho viste, quindi in linea di massima solo stato attuale della squadra. Chiaro che invece è importante magari un allenamento in più che abbiamo fatto. È chiaro che si sta lavorando tanto. La cosa positiva è che c'è molta disponibilità da parte dei giocatori sia nell'apprendere e soprattutto nel mettere in pratica. Sono le cose che in questo momento hanno un valore importante perché ci permette di diventare nel più breve tempo possibile squadra e ci permette di essere sempre più efficaci anche durante le partite. Ci vuole un po' di tempo ma sono molto contento perché la squadra risponde bene. Appena arrivato a Chiavari il mister ha subito focalizzato l'obiettivo verso la sfida di domani contro la Spalla. Un avversario in salute che ha passato il turno in Coppa e che ha riduce da 4 vittorie consecutive e che ha già l'ossatura che l'anno scorso ha lottato in Serie A. Sì, è chiaro che da parte mia tutto lo si fa in funzione della partita. In questo momento da parte nostra diventa molto molto importante ottenere il prima possibile un risultato perché ci lascia un attimino più tranquilli nel lavorare perché l'obiettivo è quello di dare le mie idee alla squadra, il mio gioco, il mio modo di vedere il calcio quindi di conseguenza ci vuole tempo e soprattutto serenità e tranquillità. Ecco perché il prima possibile dobbiamo fare un risultato che ci permette di stare più tranquilli in classifica e ci permette di lavorare e di apprendere più velocemente possibile i dettami tattici e quindi di conseguenza ci fa ben sperare per il futuro. È chiaro che se non fai risultato sei sempre un pochettino con l'ansia e con il fatto di fare risultato che magari anche l'apprendimento diventa più lento. Bene, ora passiamo al calcio dilettantistico. La Serie D, Lavagnese sconfitta in casa dal Legnano 3-2 nel recupero della quarta giornata di campionato. Succede quasi tutto nei primi 45 minuti. Gasparri porta in vantaggio i Lombardi al dodicesimo e raddoppia alla mezz'ora. Un minuto dopo Allucci riesce a trovare il gol che accorcia le distanze ma al trentasettesimo Cucuzza segna su punizione e restituisce il doppio vantaggio al Legnano. Secondo tempo più arrembante per la Lavagnese ma nulla da fare. Al minuto 63 Tripoli sbaglia un rigore per i bianconeri. Inutile il gol al novantatreesimo di Colnaghi che fissa il risultato finale sul 3-2 per il Legnano. E ora passiamo alla palla nuoto. Nella terza giornata del campionato di Serie A1 la Prorecco ha superato agevolmente il Salerno con una vittoria per 18-0. Una partita dominata nel giorno del ritorno nella storica piscina di Punta Sant'Anna a Recco. Vediamo. Un ritorno a casa in grande stile, quello della Prorecco. Sabato la vittoria per 18-0 con il Salerno ha coronato una giornata già di per sé memorabile in cui i biancocelesti sono tornati a giocare una partita ufficiale nell'impianto di Punta Sant'Anna a Recco a oltre dieci anni dall'ultima volta. Oggi è stata la giornata più bella del 2020 diciamo che per me personalmente tornare a giocare a Recco dopo dieci anni e mezzo è stato estremamente piacevole. Ci tenevamo tanto, un po' anche un po' preoccupati perché è sempre successo qualcosa negli ultimi anni invece è diventata realtà. Già da settembre siamo qua ad allenarci tutti i giorni. Sono convinto che per noi sia veramente qualcosa di fondamentale. È il capitano Ivovic al minuto e 27 di gioco ad aprire le danze. Due gol di luongo e il rigore trasformato da Di Fulvio permettono ai padroni di casa di chiudere la prima frazione con un solido vantaggio. Anche gli altri tre quarti sono a senso unico fino al pesante 18-0 finale in cui spicca la cinquina di Di Fulvio e la rete di Andrea Nuzzo classe 2005 alla prima partita in A1. Una giornata di festa che non distoglie però i giocatori dagli obiettivi vincere in campionato e soprattutto vincere in Champions League trofeo che manca da ormai sei anni. I biancocelesti saranno in vasca a Ostia per la fase a gironi della competizione europea dal 14 al 17 dicembre. Non ci sono scuse, non ci sono alibi, lì bisogna andare a vincere. Noi lo prendiamo in considerazione come se fosse già una Final 8 perché comunque fai tre partite in tre giorni è come la fase finale perciò è anche già una sorta di preparazione per la fine. Ora, gli avversari rispetto al campionato italiano sono molto più forti quindi è il primo impegno vero e proprio che avremo. Anche Telepace entra a far parte delle emittenti che partecipano alla campagna di sensibilizzazione portata avanti dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Sia in radio che sui canali televisivi saranno trasmesse una serie di promo relativi all'emergenza sanitaria in atto. I messaggi riguarderanno la tutela dell'infanzia, il contrasto alla violenza contro le donne, l'importanza delle app immuni per fermare il contagio. Li vedrete in onda sino alla prossima primavera. Da alcuni giorni è a disposizione un nuovo strumento per sostenere l'operato di Telepace. Si tratta di quello che tecnicamente viene chiamato un QR code trasmesso in sovraimpressione sul canale 187 Telepace News. Basta scansionarlo col proprio cellulare e si avrà la possibilità di accedere direttamente il sito di Paypal attraverso il quale sarà possibile quindi effettuare una donazione. Notizie di viabilità proseguono gli interventi di ispezione e manutenzione nelle ore notturne sulla rete autostradale della Liguria. Dalle ore 22 di questa sera alle ore 6 di domani, martedì 1 dicembre, deviazione obbligata in uscita a Sessi Levante per chi percorre la A12 da Genova in direzione di La Spezia. E ora, come sempre, le Flash News prima di chiudere. Regione Liguria ha pubblicato un bando da 32.000 euro per sostenere l'apicoltura. Le associazioni potranno accedere ai finanziamenti per attivare corsi, seminari, incontri tecnici e interventi contro la Varroa in favore dei propri soci. Il termine per la presentazione delle domande è il 30 dicembre 2020 e gli interventi sono possibili sin al 2 luglio 2021. Un nuovo bando di 500.000 euro per finanziare progetti per il sostegno a disabili da parte delle associazioni del terzo settore. È stato stanziato dalla Regione Liguria ed è possibile farne richiesta sino al 15 dicembre 2020. Le associazioni devono presentare un progetto esecutivo nell'ambito di alcune macro-aree. Sessi Levante ha varato una misura a sostegno degli anziani seguiti dal Comune per particolari fragilità e disabili. L'amministrazione sta predisponendo un kit composto da saturimetro, mascherine FFP2 e igienizzante per le mani che sarà consegnato prima di Natale. I kit verranno portati anche ai centri anziani e all'associazione di quartiere per una distribuzione più capillare. Il bando del Gal Genovese per la creazione di nuove strutture e la riqualificazione di quelle esistenti di ospitalità extra alberghiera è stato prorogato sino al 31 gennaio 2021. La dotazione finanziaria prevista di quasi 250 mila euro è rivolta a bed and breakfast, affittacamere, CAV, rifugi alpini ed escursionistici già esistenti o di nuova apertura che ricadano all'interno dell'area di competenza dell'Agenzia di sviluppo Gal Genovese. Con questo noi ci fermiamo qua. Prossimo appuntamento con l'informazione, come sempre, domani 12.45. Vi lascio con la programmazione serale della nostra emittente. Grazie per essere stati con noi. Una buona serata a tutti. Arrivederci.